Si riaprono nuovamente i termini per presentare la domanda finalizzata a ricevere l'ulteriore indennizzo del 10% riservato agli azionisti dell'ormai ex banca Etruria. A comunicarlo è a Di Consum Cisla Rezzo. Gli interessati dovranno presentare la documentazione entro mercoledì 11 ottobre 2023, dal momento che la scadenza dei termini è fissata per il 15 ottobre. In particolare, a Di Consum ricorda che coloro che abbiano necessità di modificare l'Iban su cui è stata accreditata la precedente quota di indennizzo e finalizzare così la pratica, possono rivolgersi agli uffici di Viale Michelangelo ad Arezzo. Chi era infatti in banca Etruria è stato incorporato in UBI, che a sua volta è stata incorporata in banca intesa e ha avuto così almeno tre variazioni di IBAN. Gli uffici resteranno aperti proprio per ottemperare a tali richieste il mercoledì dalle 10 alle 12, dalle 16 alle 18 e il venerdì sempre dalle 10 alle 12. È importante per noi erogare un servizio rivolto ai cittadini che hanno subito una vicenda molto travagliata, ha detto Vincenzo Tresca, responsabile di Adi Consum. Auspicchiamo che con questa comunicazione tutti coloro che necessitano della variazione del Libana nella propria pratica, possano compilare la domanda nei termini richiesti. Grazie.